Abbiamo una dedica speciale da fare, il titolo è Giampiero, in modo particolare tutte queste persone che portano questo nome, zio Giampiero, ma i ragazzi lo vogliono dedicare a Maurizio Solfrini e quindi la introduciamo come abbiamo sempre fatto con i vostri videoclip, naturalmente salutando l'amico Frantolio Paganelli. Un'amico Frantolio Paganelli. Sotto. A presto A presto A presto A presto A presto A presto A presto